musica no eccolo porca troia oh hit marker no boom che kill cazzo ma dove raga tripla così oddio faccio un altro ancora no no eh volevi bam boom bitch 213 mil guarda che è un mostro però se non muori lo meriti hai usato troppo guarda come i colpi non entrano è lì è morto ciao raga ciao tutti con Raktor prendo il cazzo è lui eh è fatto a 150 madonna sono tre vai che vuoi che sia oh li prende tutti Raktor quanti sono ho finito il materiale cazzo non era oh mio dio ho uno di vita raga eccolo oh 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 uno di vita no vabbè no vabbè no vabbè oh ho capito raga io ci ho 16 preso col cecchino uno ah da me da me da me da me preso col cecchino un altro eh ma che tutti hit marker ma che cazzo tre colpi da hit marker però e crema vaffanculo a mamme ma che cazzo ma no no bella fratello di enzuccio madonna raga io ho disintegrato la testa manco ma no ma eeeh anche questa Luca è una teoria ma che è lol no non era proprio quello che volevo fare ma va bene dai va bene va bene ci sta ci sta e tu bella raga via boom baby boom baby forse mi ammazzano quello cattano oh ho visto madonna raga io ho disintegrato la testa è un problema è un problema che c'è un problema ma no no ma che cazzo stai a dire oh mi lecchi il cazzo 288 metri sono anche a nord ovest finiti oh ehi va bene ma vorrei capire in tutto questo boom baby ma chi spara ma ti l'ho preso oh ma che fa questo oddio devo prenderlo easy oh 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 oddio no raga non potete capire che ho fatto due noscub di fila no vabbè BAM 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 BOOM BITCH Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti